Allora, cominciamo dalle sue abitudini alimentari. Cos'è solito mangiare? Non mi vuole rispondere. Sì, sì, sì. Mangio pesce, carne, mi nutro in maniera razionale. Sostiene Pereira che quel giorno aveva trovato su una rivista un saggio che lo aveva impressionato. Ho appena letto il suo articolo, lo trovo molto. Oh, no, no, no. Sostiene Pereira che nemmeno quella telefonata gli fu di grande consolazione, senza sospettare l'importanza che quell'appuntamento avrebbe assunto in seguito per la sua vita. Dottor Pereira, ora vorrei farle una domanda intima. La sua attività sessuale. Come dice? Le donne. Devo confessarle che le sue domande mi imbarazzano. No, è normale. Lei che può scrivere su un giornale? Racconti quello che succede. Faccia sentire che non è d'accordo. Traduco racconti dal francese. Non saprei fare di più. Forse tutto si può fare. Basta averne la volontà. Cosa ci fa qui? Da dove viene? Poi le spiego tutto. La mia storia è la mia storia. La mia storia è la mia storia. Grazie.